Grazie Presidente. Così per fare un quadro, in origine c'erano le autorità d'ambito, autorità d'ambito che nel 2010 sono state abolite da una legge nazionale, con il decreto legge numero 2 del 25 gennaio 2010. Furono abolite per quale motivo? Perché erano considerate, in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, erano considerate dei centri di spesa inutile, e cito le parole precise. Cosa succede? Nel 2011 la regione toscana cambia nome, non le chiama più autorità d'ambito, ma le chiama ATO, ambiti territoriali ottimali, che di fatto sono quello che erano prima. Sono, cioè, dei centri di spesa inutile, perché attualmente questi ATO hanno solo funzioni amministrative e non erogano il servizio. Quindi si configurano in tutto e per tutto, tanto quanto come l'autorità d'ambito che la legge ha abolito. Allora, noi qua chiediamo nel dispositivo fondamentalmente tre cose. Il primo è un rispetto della legge, un rispetto della legge che prevede il superamento di queste forme consortili, di questi centri di spese inutili. Quindi un rispetto del decreto legge 25 del 2010, numero 2. Chiediamo che si apra un ragionamento per rivedere integralmente l'organizzazione dell'attuale modello, che oggi è strutturato su questi tre ambiti territoriali ottimali. Tra l'altro, così com'è oggi strutturato, è non conforme a quanto prescritto anche dalla Direttiva Europea 98 del 2008. Perché dico questo? Perché oggi all'interno dell'ambito territoriale ottimale i comuni hanno potere di voto in base all'impiantistica, tra le varie elementi, in base all'impiantistica presenti nel loro territorio. Paradossalmente chi ha un inceneritore conta di più di chi fa raccolta differenziata sopra il 90%. E questo è il netto contrasto con la Direttiva Europea 98 del 2008 che prevederebbe l'esatto contrario, cioè premiare tutte le azioni virtuose in tutti i luoghi. Quindi paradossalmente dovremmo avere comuni i più virtuosi che contano di più, anche perché loro stessi, avendo sperimentato le buone pratiche, dovrebbero indicare l'indirizzo politico corretto. E il terzo punto è verificare la legittimità di tutti questi atti usciti delle autorità d'ambito, perché di fatto, leggendo la normativa, secondo noi sono illeciti, ma noi chiediamo che venga fatta una verifica complessiva. Grazie.